Ciao, buongiorno, 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 ciao, ciao, benvenuti a tutti, ciao, piacere, ciao. Com'on può provare, il è il dernier normand, vuole vedere, già il ha le son bleu, parlo parfaite francese che parla, c'è ancora il normand d'epoca, il 12e, io gli lese l'honneur, già il rigolo, lui l'ha capito. Grazie a tutti, grazie. Mon pronome è Giuseppe, il mio lavoro è mosaicista. Il normand d'epoca. Mosaicista. In NCC siamo 8 mosaicisti, e questo è l'estrumento che permette la realizzazione della tecnica di Zampano, che è, guardate, in cattedrale. Ok, sul materiale è marbole, e sul lì è l'estrumante, vedete, sul lì è il martellano, vedete, sul lì è smontabile, in base al taglio, e questo qui è il tagliolo, che è trasportabile. Vedete, sul lì è il marbole, si fa sempre in sequenza, una specie... Soprattutto mentre le juttore è il marbole, le guarda il lavoro e pensate che fanno la stessa cosa, perché è per avere un'idea. Quindi è andata, è così, cioè un piccolo, mi ricordo che parta da un gros blocco di marbo, ancora attenzione il marbole, ed è riposo, guardate ancora. Non, 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 ne procedo. Ok, guardate.